Alleluia Bene, allora prendete carta e penna, buonasera, ben ritrovati Il titolo dello studio di oggi è Non lasciarti rubare la tua chiamata No? È molto importante questo Amen? Ci siete chiesa? Non lasciarti rubare il ministerio, la chiamata, no? E dobbiamo essere attenti a questo Alleluia Ecco qua, così ci prepariamo con i versi Ne analizzeremo diversi, passatevi il gioco di parole Ma potete tranquillamente vederli di qua, voi prendete nota Bene, iniziamo da Efesini 2, dai versi 10 e 13 Dice, infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone Vuoi ripetere con me? Per fare le opere buone Sei stato chiamato e siamo stati creati per fare le opere buone Non le tue opere buone, ma le sue opere buone Dove sono queste opere? Dice che Dio ha precedentemente preparate affinché lui le praticasse No? Le ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo Noi le pratichiamo Lui ha preparato opere buone Si trovano lassù Ma noi le dobbiamo praticare Quindi dobbiamo praticare le opere che lui ha preparato Non le opere buone che pensi che tu siano buone Tu puoi sicuramente fare cose buone Ma le migliori sono nei cieli Poi andiamo avanti Perciò ricordatevi che un tempo Voi stranieri di nascita Chiamati incirconcisi Da quelli che si dicono circoncisi Perché tali sono nella carne per mano d'uomo Voi dico Ricordatevi che in quel tempo Eravate senza Cristo Prima di venire in chiesa Prima di conoscere Dio Noi eravamo senza Cristo La domanda è Tutti hanno Cristo? Tutti hanno Cristo? Signore ritorna Tutti hanno Cristo? No E ci sono delle persone che non hanno Cristo E che dobbiamo raggiungere E li dobbiamo dire Che Dio ha preparato Delle opere buone Affinché tu le praticassi E che stanno nei cieli Tu sicuramente potrai fare opere buone Ma Dio ha opere buone Che ha già preparato per te Geremia dice che ci ha consacrati Fin dal grembo materno il Signore Ricordatemi Che in quel tempo eravate Senza Cristo Dice Paolo Esclusi dalla cittadinanza di Israele Ed estranei ai patti della promessa Senza speranza E senza Dio Io solamente oggi Sapendo che non sono più senza Dio Devo dire grazie Grazie Che non sono più senza Dio Ma dobbiamo In un certo qual senso Qui Paolo ci sta proiettando Nella situazione pre Cristo Prima di conoscere Cristo Dice Paolo Voi eravate così Vi rendete conto Di che cosa siete oggi Vi rendete conto Dice Paolo Cosa avete nelle vostre mani Quale chance No? Questa cosa preziosa Questa perla di valore Di alla persona che è accanto a te Tu sei una perla di valore Questo vuole dire Paolo Ci vuole fare come dire Dare una scossa Ehi Qui non è andiamo in chiesa Non è leggiamo la Bibbia Non è fare dei precetti Non è seguire dei precetti Qui tu sei ben altro Tu prima eri questo Adesso tu sei questo Poi dice Verso 13 Ma ora In Cristo Gesù Voi che allora eravate lontani Siete stati Avvicinati Mediante Il sangue Di Cristo Siamo stati creati Per fare Le opere Buone Non le opere Che secondo noi Sono buone Noi potremmo fare anche Opere buone No? Sicuramente Non vogliamo essere orgogliosi E dire Che magari Se non hai Cristo Non puoi fare le cose buone Ci sono persone Che non hanno conosciuto Gesù E che fanno le opere buone Ma non sono Queste opere buone Che Dio sta parlando E che non sono Queste le opere buone Che Dio ci ha preparato Perché se noi Sapessimo fare Le opere buone Per quale motivo Gesù le dovesse preparare Sappiamo fare già Vi pare? Invece se lui ce li ha preparate C'è un motivo Qui Paolo vuole ricordarci Il nostro passato Vuole ricordarci Chi eravamo prima Di Cristo E chi siamo Ora Non so Se nella tua mente C'è stato questo flashback Che ti ha riportato Nel passato E adesso In un secondo Ritorni Nell'attuale presente Ti viene nel cuore Di dire Dio mio Che cosa hai fatto per me Grazie Al di là di tutto Grazie Non so se Anche a voi Ha suscitato Questa emozione Questo viaggio No? Dice Stare Con gli stranieri E con il mondo Attenzione adesso Non significa Fare Le loro Cose Noi siamo chiamati Ad andare nel mondo E a dare la stessa chance Agli altri Ma andare nel mondo A portare la parola E a portare il messaggio Della salvezza Non significa Che io mi devo fare Devo ritornare a fare Quelle cose Ma dobbiamo far notare La differenza Cioè dobbiamo dare La stessa possibilità Che Dio ha dato a noi Ma non dobbiamo fare Più le cose Che facevamo Prima Ma la domanda Che Giulia fa È spontanea Dice Ok pastore Io devo stare Con quelli del mondo Perché giustamente Devo portare La salvezza Ma se alle persone Che noi proponiamo Questo non gli interessa Dobbiamo continuare A stare con loro Fino a che Perché non si piegano Come dice il pastore Mauro Adragna Dio esiste Ma non sei tu Rilassati Voglio dirti questo Adempi La tua missione Ma senza Lasciarti Distrarre E senza Lasciarti Coinvolgere Nel loro mondo Perché Questa È la trappola Che Satana Prepara Per rubarti La chiamata E per rubarti Il tuo ministerio Si chiama Perbenismo Si chiama Come in un certo qual senso A molti dicono La ipergrazia No? Fai attenzione Perché Sì Dobbiamo portare La parola di Dio Sì Lo analizzeremo Gesù ha mangiato Sì Gesù è venuto Per i malati Ma Se noi vediamo Che la gente Si ostina A non accettare Occhio Perché Può essere un vortice Dove tu Ci cadi Ti preoccupare Tu Parla lì del Signore A quell'uomo Che prima o poi Sarà tuo E te lo sposerai E fu così Che la sorella Uscì dalla chiesa Ho tante esperienze Sulla mia pelle Rimani con loro Per un tempo Ma se non dimostrano interesse Se non sono interessati Da Dio Se sono solamente Convinti Che Dio esiste Ma non si lasciano Convertire Allora Ascolta bene Chiesa Statene Alla larga E lascia Che sia lo Spirito Santo A parlargli Intanto tu Cosa fai Te la svigni Ma Intercedi E preghi per loro Amare una persona Non significa Che la devi frequentare O non significa Che devi andare A fare le stesse cose sue Quando tu preghi Per una persona Gli stai dando La più grande Dimostrazione D'amore Amen Vogliamo vedere No perché Noi ci dobbiamo comportare Come Gesù si comportò Non dobbiamo Fantasticare molto Con la nostra mente Anzi Non dobbiamo fantasticare Proprio Gesù è il nostro esempio Paolo dice Che dobbiamo essere Imitatori di Cristo E vediamo Gesù cosa ha fatto Sai Perché molte persone Sono facili A cambiare un po' Il Vangelo No? Ad adattarlo Alle proprie esigenze No? Pur di avvallare Le proprie ipotesi Come dire Per mettersi La coscienza A posto No non è così Vediamo Gesù Cos'ha fatto Perché se l'ha fatto Così Gesù Se Gesù si è comportato Così Io sto a posto Con me stesso E con Dio Facendo le stesse cose Che Gesù Ha fatto Tu pensa Da quello che vuoi A me Matteo 9 I versi dal 10 al 13 Dicono così Mentre Gesù Era a tavola In casa Sopraggiunsero Molti pubblicani E peccatori Si misero a tavola Con Gesù E con i suoi discepoli Innanzitutto Gesù era a casa E sono i peccatori Che sono andati A trovare Gesù Ok? Perché questo Questo passaggio A molti lo travisano 11 I farisei Veduto ciò Dicevano ai suoi discepoli Perché il vostro maestro Mangia con i pubblicani E con i peccatori? Ma chi È andato a trovare Gesù? Chiaro che sì Ma Gesù Gli dà una risposta Fantastica E gli dice Non sono i sani Che hanno bisogno Del medico Ma i malati Giusto Non sta accusando Ma Gesù Sta dando A quei farisei A quei pubblicani A quei peccatori Una Possibilità Di Che cosa? Ravvedimento Di salvezza Perché la salvezza Avviene dopo il ravvedimento Verso 13 Ora andate E imparate Che cosa significhi Voglio misericordia E non sacrificio Perché io non sono venuto A chiamare dei giusti Ma dei peccatori Allora Questo sì È vero Che noi dobbiamo portare Gesù alle persone È vero Che Gesù È venuto Per i malati È vero Che Gesù Ama i peccatori Ma odia il peccato È vero Tutto questo Ma Non sta scritto Da nessuna parte Che tu Devi stare Con i peccatori Fino a che il peccatore Non si converte Perché se tu pensi Questo Arriverà un momento Che sarai tu Che ti convertirai A loro O meglio Ritornerai Peggio di prima Tu vai Insisti Stai lì Insegna Dimostra con la tua vita Ma Se la gente È capacchiona Tu Stacchi da loro Capirai più La perché Perché anche Lo staccarsi È una tecnica Che Gesù È un insegnamento Che Gesù ci dà Per aiutare Quelle persone Ok Lo vedremo più avanti Gesù ha mangiato Con i peccatori Amen Ci siamo Ha mangiato Quindi noi possiamo mangiare Non dobbiamo essere Come dire Tu sei peccatore No 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 Perché noi Prima di Cristo Eravamo come loro Amen È venuto per i peccatori Gesù Certamente Che l'ha mandato a fare Il nostro papà È venuto per i malati Sì Grazie alle nostre Le sue levidure Noi siamo guariti Dice Saiia 53 Ma Gesù Ha mangiato Con loro È stato insieme In casa Ma una cosa Non ha fatto Non ha più seguito Loro A me È accaduto Invece Il Contrario Loro Quando sono stati Insieme a Gesù Gesù gli ha detto Seguimi Non è stato Gesù a seguire Loro E invece Noi Pensiamo Che dobbiamo seguire Queste persone No Sono loro Che devono seguire Dio Sono loro Che devono seguire Gesù Se Dio è con te Sono loro Che devono seguire Te Chiaro fin qui Se avete delle domande Potete scrivere Apriamo un dibattito Tranquillamente Dopo Una persona Che ama Gesù La prima cosa Che fa Qual è Lo segue La seconda Cosa che fa Si ravvede E si pente La terza cosa Che fa Diventa Suo servo Una persona Che si rifiuta Di essere servo Molto probabilmente Non si è ravveduto Non si è pentito Molto probabilmente Non ha mai seguito Gesù Amen E' chiaro Tutto il resto Sono chiacchiere Tutto il resto Sono favole Sono faccende di strada Sono scuse Tutto il resto E' orgoglio In una parola Ribellione Stop Tu puoi dire Tutto quello che vuoi Tu puoi fare Tutto quello che vuoi Ma se tu non hai seguito Gesù Non ti sei pentito Non ti sei ravveduto Non sei diventato Tuo servo Tutto quello che stai dicendo Sono chiacchiere Amen Gesù ha detto Ama il tuo prossimo L'ha detto? Ok Il che non significa Che per amarlo Devi fare le cose Che lui fa Puoi chiudere Anche la porta Soffietto Così evitiamo Che entrano Ok grazie Gesù ha detto Amo il tuo prossimo Come te stesso Ripeto Il che non significa Che per amare Il tuo prossimo Tu devi fare Le cose che fa lui O devi vivere come lui O accettare le sue cose Sai Molto spesso Noi accettiamo Le cose degli altri Perché è come se Dovessimo piacere Agli altri Molto spesso Noi non ci sentiamo Amati Dai nostri amici E quindi pur di piacerli Facciamo tutto quello Che loro dicono No il cristiano è al contrario Sono loro che devono seguire te Semplicemente perché tu hai Gesù E tu hai la verità Amare significa pregare Amare significa Dichiarare La misericordia di Dio Sulle loro vite Amare significa Mettere queste persone Nelle mani di Dio Noi non siamo chiamati A fare le opere buone E basta Mettiamola nelle mani di Dio Noi non ci dobbiamo Sostituire a Dio Noi siamo ponte Noi cerchiamo Di mettere una connessione Tra l'uomo Del mondo Il peccatore E apro un'altra parentesi Il fratello che non viene più in chiesa Il fratello sviato Non è tanto diverso dal mondo Chiesa Ne siamo ancora un ponte Ma A tutto c'è un limite E lo vedremo più avanti Ma chi Non ha Gesù Domanda Come può fare Le opere buone Se ha bisogno Di Gesù Per ravedersi Dalle opere malvagie È una domanda Che viene spontaneo Può una persona Che non ha Gesù Nel cuore Fare le opere buone Se in realtà Ha bisogno di Gesù Per ravedersi Da tutte le opere malvagie Noi prima di iniziare A fare le opere buone Abbiamo bisogno Che Gesù Entri nella nostra vita E ci dobbiamo Pentire E ravvederci Di tutte le opere malvagie Che abbiamo combinato Se tu non ti sei ravveduto Dalle opere malvagie Tu opere buone Non ne puoi fare E fu così Che vissero Felici e contenti Non direi Allora giustamente Poi Giulia Che è Una sorella Che vuole vederci chiaro No? Dice Va bene pastore Fammi capire allora E chi sono i miei amici? Chi devono essere I miei amici? E' vero o no? Cioè Della serie Con chi me la devo fare? E' giusto? Se sono amici di Gesù Ti rispondo Giulia Immaginiamo che hai fatto Questa domanda Se queste persone Sono amici di Gesù Allora possono essere Anche i miei amici Se non sono amici di Gesù Non saranno Nemmeno i miei Porto la parola Porto la salvezza Ma l'amicizia È qualcosa di più profondo Io rimango fuori Ma Vediamo Giovanni Ci posso dire Non è che un tuo pensiero Giovanni 15 Dal 14 Al 15 Gesù parla Ai suoi discepoli E dice Voi siete Miei amici Se fate le cose Che io vi comando Già per essere amici di Gesù Dobbiamo fare le cose Che lui ci comanda Poi lui continua E dice nel 15 Io non vi chiamo più servi Perché il servo non fa Non sa quello che fa Il suo signore Ma vi ho chiamati amici Perché vi ho fatto conoscere Tutte le cose Che udite dal padre mio Chi è? Chi sono gli amici di Gesù? Quelli che fanno le cose Che lui dice E la nostra posizione Con quelli che non hanno Gesù È solamente ponte Un contatto Uno strumento No? Un angelo Come dire No? Un ponte Per portare la verità Ma la domanda è E se non ne vogliono sapere? Pastore Se non vogliono sapere Sono mesi Mesi che io li parlo Ma non ne vogliono sapere Cosa succede? Che il nemico può ingannarti E ti può mettere nella testa Che tu Starai insieme a loro Fino a che loro non si convertono Non è così Perché non siamo Dio Noi siamo strumenti Abbiamo seminato Abbiamo fatto il nostro lavoro Abbiamo fatto l'opera buona Ma dopo di che io faccio un passo Indietro E lascio Dio operare Perché l'amore che io ho per questi amici Mi porta a pregare E a dichiarare misericordia Proprio perché io li amo Loro non potranno capire Il lavoro contrario Anche quando tu gli parli di Gesù Loro non potranno capire Che tu li stai amando Perché loro penseranno Che tu li stai manipolando Che è diverso Infatti In prima Corinzi 15 Dal 33 al 34 Paolo inizia così E dice Ascoltate come inizia Paolo Non vi ingannate Cioè Non vi illudete Non vi fate prendere in giro Le cattive amicizie Corrompono i buoni costumi Ma chi sono le cattive amicizie? Quelli che non hanno Gesù I malati I peccatori Ridiventate Sobri Per davvero E non peccate Perché alcuni Non hanno Conoscenza Di Dio Lo dico a vostra vergogna Le cattive compagnie Corrompono i costumi C'è un proverbio Della nonna Che dice Dimmi con chi vai E ti dirò chi sei Non è sbagliato Non è per niente sbagliato A meno che una persona Non ha Gesù a dire Sì io ero quello Ma è ancora oggi E' così Infatti Una delle chicche di Salomone Nei suoi proverbi Al capitolo 13 Il verso 20 Dice Chi va con i saggi Diventa saggio Ma il compagno degli insensati Diventa cattivo Che cos'è la saggezza? Se non Dio Che cos'è essere insensati? Se non dire che io senza Dio posso Farne a meno E' vero o no? Ci ritroviamo? Qui Dio ci sta amando Lo so che emotivamente Affettuosamente Fa male Ma questo serve per conferire grazia A noi domani E anche ai nostri amici Poi vedremo più in là Gesù Come risponde Anche nei confronti Di sua madre E nei confronti Dei suoi fratelli Carnali Come Gesù risponde In seconda Pietro Capitolo 3 I versi 17 e 18 Dicono così Voi dunque carissimi Sapendo già queste cose Guarda Pietro cosa dice State in guardia Per non essere trascinati Dall'errore degli scellerati E scadere così Dalla vostra Fermezza Sta parlando a credenti Ma crescete nella grazia E nella conoscenza Del nostro Signore E Salvatore Gesù A lui sia la gloria Ora e in eterno Amen Apri gli occhi Dice Pietro Perché Quando tu sei troppo convinto Non ti preoccupare Tanto Bastore non ti preoccupare Io vado a evangelizzare Quello nel nome di Gesù Sarà il mio uomo Sarà la mia donna Non ti preoccupare La mia amica Ma no Ma io ho capito Ma ti pare che io adesso Le ultime parole famose Sta in guardia Apri gli occhi Io ho seminato Tranquilla Dì alla persona accanto a te Quando Dio Inizia un'opera Lui stesso La porterà a compimento Non siamo noi che dobbiamo Portare a compimento l'opera Noi siamo chiamati A obbedire a quello Che Dio ci dice di fare Con gli amici Con il mondo Con i fratelli Che sono usciti dalla chiesa E bla 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 Perché in Ecclesiaste è scritto Che uno semina L'altro pianta L'altro far gemogliare L'altro raccoglie Ma chi fa tutte queste cose È Dio Allora noi portiamo avanti Iniziamo l'opera Seminiamo? Ok Il fratello Il fratello Ha deciso di non venire più in chiesa Siamo andati la prima La seconda La terza volta A dire Ma che stai facendo Ma cerca di pensare bene Se una persona Non ne vuol sapere Falle vedere Che per te Dio È importante È necessario Per me Dio è importante Quindi tu Vuoi stare a casa? Prego Non so che farmi Di persone che Non hanno Dio Io non so che farmi È al contrario Cioè Siamo noi le perle Siamo noi che Cioè Dobbiamo valorizzarci Prima Pietro Capitolo 2 Versi 11-12 Ancora Pietro Dice Carissimi Io vi esorto Che significa esortare? Ve lo dico con una certa insistenza Cioè Quello che vi esorto Quello che vi sto dicendo È importante Dice Come straniere e pellegrini A fare che cosa? A da stenervi Dalle carni Dalle carnali Concupiscenze Che danno L'assalto Contro l'anima Avendo una buona condotta Fra chi? Fra i pagani Chi sono i pagani? Pietro dice Tu puoi stare con i pagani Però fai attenzione Perché a furi di stare con i pagani Tu ritornerai indietro Quindi fai Attenzione La tua condotta Fra di loro In peccato E da quando vai alla chiesa Sei cambiato? Sei cambiata? Tu le rispondi Sì Groia Addio E meno male E mo Ti ricordi Quando ci incontravamo E giocavamo alla birra? Ci incontriamo a giocare alla birra? No grazie Non lo faccio più Eh ma Facciamo un grattevincio A società? No grazie E senti Fatti due tiri? No grazie Si deve vedere la differenza Lo dice Malachia Non l'ho preso in considerazione Ma Malachia dice Si deve vedere la differenza Tra chi serve il Signore E chi no E come lo si vede? Dal comportamento fra i pagani Perché dice Affinché laddove Sparlano di voi Perché quando le persone Incominceranno a vedere Per gelosia Che tu sei riuscito A smettere di fumare Sei riuscito A non bevi più Non giochi più A grattevinci Sei uscito Da elegami Il Signore sta con te Diventano Invidiosi E gelosi E così Perché Non hanno Preso Sul serio Il cammino Col Signore Perché chi rompe i legami E chi rompe le catene Non sei tu E' sempre lui Il Dio Onnipotente Tu hai solamente Avuto un amore per lui Ravvedendoti E dichiarando Di non fare più questo Di fare una scelta E dire Non più peccato Sia Dio E questa è la differenza Che altri non riescono a fare Non è che io Dici io non ce la faccio No 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 Tu non vuoi Che è diverso Ok? E quindi Se tu non vuoi Perché io me la devo fare Ancora con te? Chi va con lo zoppo Impara a zoppicare Non la breakdance A zoppicare Ma continua Pietro Affinché Sparlando di voi Chiamandovi malfattori Ascolta bene cosa dice Pietro? Osservino le vostre opere Ah Cosa sono queste opere buone? Quelle che Gesù Ha precedentemente preparato E noi per fede Siamo andati nel terzo cielo Li abbiamo prese Li abbiamo portate sulla terra Li abbiamo detto Ecco Questo è il Dio Che io servo Tu che vuoi fare? Chiude Pietro E dice E Dio no gloria al Dio Nel giorno in cui Li visiterà Chi li visiterà? Ah mi ricordo Quelle opere buone Di Giulia Mi ricordo Giulia Quella volta Mi ricordo Vittoriano Mi ricordo Antonella Che mi disse No Ah Ora capisco Quindi il saggio Era lì Era lui Non io Io ero Di turno Avete compreso Non scendete a compromessi No Io non ne faccio Perché la parola di Dio Dice questo E io non faccio Questo Cos'è convertirsi? Cos'è ravvedersi? Che prima facevo una cosa Adesso non la faccio più Ravvedere Convertire Prendere la giusta Via Quello significa Se ci sono persone Che ti vogliono Trascilare Nei loro peccati Voglio dirti questo Evitali Se non ti è possibile Portarli Sulla retta Via Questa È Non una regola Una cartina Tornasole Se tu Non riesci Più A portare Quelle persone Sulla retta Via Perché hai fatto Tutto il possibile No? E tutto quello Che Dio ti ha dato di fare Tu l'hai fatto E non sei riuscito Evitali Io non sto dicendo Di evitare a priori Le persone che non hanno Gesù Perché non è biblico Gesù ha mangiato con loro Noi dobbiamo andare con loro Ma fino a che Tu stai per portarli Sulla retta via Ci stai riuscendo Bene Ma se vedi Che hanno il cuore duro E stanno ricalcitrando Contro un pungolo Dice Paolo Evitali E ti sembrerà strano Le persone che più Sono da evitare Sono persone che Escono dalla chiesa Perché sono orgogliosi Sono molto più pericolose Quelle Perché hanno conosciuto Lo vediamo dopo Non seguire persone Ecco Adesso ne parliamo Che nonostante Conoscono la verità Vivono in maniera Disordinata Queste sono pericolose Molto pericolose Perché tu conosci la verità Ma continua a vivere Non che non riesci Non vuoi Non vuoi Perché le cose che ti piacciono Tu le ottieni Con uno schiocco di dito Siamo sinceri Quando tu vuoi una cosa Quando tu ami una cosa Non ci pensi due volte E la ottieni Se a te non riesci A mettere in pratica La parola di Dio Perché di fatto Tu a Dio Non lo vuoi Perché ti piace più A secondare I desideri Della carne E questa è la verità Minuto che ci giriamo intorno Il peccato Non è un qualcosa Che ti viene E ti si piomba addosso Non sono riuscito A bloccare Pasdolo Il peccato No Tu scegli di peccare E sei consapevole Tu scegli E ne sei consapevole Come sei consapevole Di scegliere Dio Di amarlo E onorarlo Tutti i giorni della tua vita Dicendo No Non seguire persone Che nonostante Conoscono la verità Vivono in maniera Disordinata Seguendo le proprie Voglie Perché queste persone Che hanno conosciuto La verità Ma continuano a vivere In maniera disordinata Arriverà un momento Ascolta bene Che si faranno Un Vangelo A propria immagine E somiglianza Si faranno Un Vangelo Che soddisfi Le proprie voglie Metteranno su un Vangelo Che sembra come se La verità Ce l'hanno loro Ma dia alla persona Che è accanto a te Il Vangelo È uno solo Ed è quello di Cristo Non si può Sovvertire E cambiare Un Vangelo Non si può Sovvertire E cambiare Il Vangelo Non si può Eppure molti lo fanno Se in giro I pastori senza pulpito Altra moda Ne stavamo discutendo Proprio su Facebook Che va Di giro Va di moda No? Ormai Il pastore senza pulpito Su predicare Su Facebook Sui social No? Va di moda La ipergrazia Io posso fare Tutto quello che voglio Tanto Gesù O la sua grazia Mi perdonerà Sempre Queste persone Si stanno facendo Un nuovo Vangelo Un Vangelo Per soddisfare Le proprie voglie Non è così Lo leggiamo Seconda Timoteo Capitolo 4 Versi 3 e 5 Guardate Paolo Cosa dice A Timoteo Dice Verrà un giorno Infatti In cui Non si sopporterà Più La sana Dottrina Arriverà Quel giorno E' già arrivato E' già arrivato Che non si sopporterà La sana dottrina Dice Paolo Perché? Per il prurito Di udire qualcosa Gli uomini Si circonderanno Di maestri Secondo le proprie Voglie Rifiutando Di dare ascolto Alla verità Ripeti con me Per vorgersi Alle favole Non sei chiamato Ad ascoltare Le favole Noi siamo chiamati Ad ascoltare La verità Molti si faranno Dama I maestri Dice qui Paolo Secondo le proprie Voglie Per assecondare Le proprie Voglie Sì Io sto usando La nuova riveduta Del 2006 Quella che è stata Quella Del 94 Questa è la 2006 Per questo A volte non vi trovate Ma è quello Il concetto Poi Paolo Continua nel verso 5 E dice Tu però Si vigilante Sappi sopportare Le sofferenze Compi La tua Opera Dice a me Svolgi il compito Di evangelista Adempi fedelmente Il tuo ministerio Che cos'è l'opera Che Dio ha preparato Per te Il tuo ministerio Non te lo lasciare rubare Non te lo lasciare rubare Dalle persone Che si stanno Che stanno Ascoltando Le favole Voglio dirti una cosa Che cos'è una favola? Una bella E grande Una bella bugia Bella da ascoltare Ma è una bugia Non esistono favole vere La verità è una Si chiama Gesù Cristo Ascoltiamo il Vangelo di Gesù Ok? Da dove te ne accorgi Che quello è un falso Vangelo Che si sta dando alle favole Dalla sua vita Dai suoi frutti Chiaro In Galati Capitolo 1 I versi che vanno I versi che vanno dal 6 al 10 Dice così Paolo parla Ad una chiesa Che si trova In Galazia No? E dice così A dei credenti Dice Paolo Mi meraviglio Che così presto Voi passiate Da colui che vi ha chiamati Mediante la grazia di Cristo Cosa dice? A un altro Vangelo Paolo lo dice A un altro Vangelo C'è qualcun altro Che è credente Che sta proponendo Un altro Vangelo Perché è una persona Che è credente E non ha la testa del Vangelo Chiaro Poi non c'è Un altro Vangelo Perché Vangelo Che significa? Buona novella E la buona novella è una Le altre sono Favole Tutto il resto È una favola Però ci sono alcuni Che vi turbano E vogliono Solvertire Il Vangelo Di Cristo Ma anche Ascolta bene adesso Chiesa Ma anche se noi O un angelo Dal cielo Vi annunciasse Un Vangelo diverso Da quello che vi abbiamo Annunciato Sia Anatema Dice qui Paolo Se dovesse venire Non solo noi Sulla terra Ci sta pure Ma se dovesse venire Un angelo dal cielo Che sta a stretto Contatto con Dio Ad annunciarvi Un Vangelo diverso Si ha maledetto Occhio Poi cosa dice Il verso nove Come già detto Lo ripeto di nuovo Stava proprio Arrabbiato Quei Paolo Beh certo Si se qualcuno Vi annuncia Un Vangelo diverso Da quello che avete ricevuto Sia Anatema Ascolta bene adesso Perché qua Paolo Dà la risposta Del perché Gli altri Si fanno Un Vangelo diverso Perché gli altri Sovvertono Il Vangelo E perché gli altri Si sono dati Alle favole Perché gli altri Non hanno mai Voluto Piacere a Dio E hanno voluto Piacere Agli uomini Amben Quando tu stai qui In chiesa Non devi piacere a me Tu devi piacere a Dio Infatti lo dice Paolo Vado a forza Cercando il favore Degli uomini O quello di Dio Tu obbedisci alla parola Di Dio Per piacere a me O per piacere a Dio Se tu spezzi le catene Lo fai per piacere a me O per piacere a Dio Se tu vieni O non vieni in chiesa Lo fai per piacere a me O per piacere a Dio Ma io non voglio venire più In chiesa Vattene Mica fai un piacere a me Fai un piacere Piacere a te stesso Stare qui dentro È una benedizione per te Non per me E questo è il concetto Vai dove vuoi Fai come il film Va dove ti porta il cuore Se il cuore è con Gesù Tu rimani qua È vero o no? Oppure cerco di piacere agli uomini Se cercassi ancora Di piacere agli uomini Non sarei servo di Cristo Avete detto Amen Se tu non stai servendo ancora Gesù In questa chiesa È perché tu Stai vivendo Il tuo cristianesimo Perché vuoi piacere agli uomini E non a Dio Perché le persone Che stanno servendo Cristo Veramente In questa comunità Vivono per piacere a Dio Ecco perché le persone Vanno via dalla chiesa Ma il pastore Ce l'ha con quella Non sono io che scelgo Se non piace a Dio Non piace nemmeno a me Se non sei amico di Gesù Non sei nemmeno amico mio Se tu non stai servendo la chiesa Cioè Se tu vieni in chiesa Per piacere a me No? E pensi che ti fai vedere Davanti a me Che sei bravo Brava Così Non sarai mai servo E se non sei servo Ascolta quello che ti dico Che cosa sei? Sei schiavo Sei schiavo Se tu non sei servo Sei schiavo Dovete piacere E dobbiamo piacere Solo a Dio Perché noi vogliamo servire Dio Non gli uomini Chi serve un uomo È religioso Chi serve Dio Chi serve Gesù Cristo È un cristiano È un vero discepolo E in questa chiesa Noi vogliamo formare Discepoli autentici Che dipendono da Dio Anche se il pastore sfarfalla Rimane lì perché ama Dio Questo è il vero discepolo Che non dipende da quello che faccio io Non dipende da quello che dico io Tu stai qui perché ami Gesù Perché tu senza Gesù Non puoi fare nulla Lo hai capito? Hai capito che Gesù è la tua vita Rimani qui Vuoi venire? Vieni Non vuoi venire? In ebraico si dice Statta a cast Io Per quanto riguarda me E la mia casa Dice Giosuè Serviremo il Signore Ma andiamo avanti Galati 3 I versi Che vanno da 1 a 3 Paolo riprende 5 ancora? Ah ok Vai avanti Ok Galati 3 dice Oh galati insensati Chi vi ha amaliati? Voi Davanti a quei occhi Gesù Cristo E' stato rappresentato Crocifisso? Questo Soltanto Desidero sapere Da voi Avete ricevuto lo spirito Per mezzo delle opere Della legge O mediante la predicazione Della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato Con lo spirito Volete ora raggiungere La perfezione Con la carne? Cosa sta dicendo Paolo? Ma Dio buono Sei venuto in chiesa Ti sei ravveduto Hai incominciato A smettere di fumare Hai incominciato A fare questo Hai fatto pace Con tua suocera Hai fatto così così Beh arriva a un certo punto E vuoi continuare Questo con la carne Stai dicendo Dio Io da solo Posso farcela Insensati Il spirito santo Non deve mai E mai Allontanarsi Da Me E per far allontanare Lo spirito santo Da me Basta che io scelga Di peccare Perché il peccato Ci allontana Da Dio Ci separa Insensati Se fosse qua Gesù direbbe Dammi la manina A me? Ci siamo fino qua? Galate 5 Verso 1 Vediamolo L'ho inserito bene Benissimo Guardate Cristo ci ha liberati Perché fossimo liberi State dunque saldi E non lasciate porre di nuovo Sotto il gioco Della schiavitù Paolo usa un termine Dice Di nuovo Significa che noi eravamo sotto un gioco Siamo stati liberati Ma le nostre scelte Ci hanno riportato di nuovo Alla stessa situazione Di prima È possibile Quindi Paolo dice Attenzione Apri gli occhi Apri gli occhi Se non hai pregato Ok ma domani Prega Non pensare di essere forte Perché il nemico è subdolo Iniziala così Ma vabbè oggi Non fa niente che non leggi Non è domani Poi passa una settimana Quando non hai pregato Per una settimana Sai cosa succede Lui ti ha tolto la spada Non puoi più attaccare Ti ha tolto lo scudo Che è la parola Che è la fede Vuole toglierti la fede Non ti puoi più difendere Fate attenzione a queste cose Cristo ci ha liberati Perché fossimo liberi E poi altra cosa Un'altra opera buona Che noi possiamo fare È il nostro ministerio Ma per poter ereditare Il nostro ministerio Tu hai bisogno Di prepararti Hai bisogno di istruirti Hai bisogno di conoscere Ma soprattutto hai bisogno Di sposare La sposa Sì Tu sei la sposa E devi vivere Perché Gesù ha sposato La sua chiesa E tu devi essere chiesa Perché il tuo ministerio Non lo hai se stai a casa Gesù ha sposato La chiesa È morto per la sua sposa E tu devi essere La sua sposa E quindi un'altra opera buona La sai qual è? Non abbandonare Mai la comune adunanza Pastore Non lasciate la comune adunanza Ascoltami bene Quello che ti sto dicendo Adesso lo dico per voi Ma oggi non ci vado a chiesa Perché fa freddo Poi domani farà Ancora più freddo Poi farà caldo Poi sarà quello Che li puzza nei piedi E poi sarà la sorella Che c'è qui sull'ombelico E poi oggi predica Quel fratello Che non capisce niente E poi oggi c'è Il ventilatore Si è rotto E poi arriverà A un certo punto Che dirà In quella chiesa Non c'è Dio In quella chiesa Non c'è amore Ma io voglio dirti Che la chiesa Non è amore Dio è amore E funziona così Non esiste Nessun motivo valido Se non Lavoro Perché chi sta lavorando Mentre noi facciamo culto Sta dando culto a Dio Amen Oppure una malattia Ho la febbre Che fai? Vieni con la febbre Ho la tosse Ho la bronchite Sto a letto Beh no Stai a casa Non ti preoccupare Sai Purtroppo accade questo Quante volte l'ho detto Che se sei malato No? No E' giusto Che tu rimani a casa E' vero? Chi si ricorda Che ho detto questa cosa? Se sei malato E' giusto Che rimani a casa Eppure accade questo Che pur di giustificare Il fatto che non sei venuto In chiesa Per dare conto a me Si inventano le malattie Ci si inventa la malattia Mal di pelo Mal di orecchio Mal di naso Sono malattie moderne Che la scienza non ha ancora scoperto Come se Tu mi dovessi Ti dovessi Giustificare a me E come se Dio Non ha visto Che tu realmente Non eri malato E non sei venuto in chiesa Per altri Tuoi motivi Questo è quello Che voglio dirvi Invece E' ancora più bello E' ancora più onesto Ed è ancora più rispettoso Dire Pastor Non mi ingozzavo a venire Fai più bella figura Almeno sei sincero E non fai peccato Su peccato Tanto Dio lo sa A cosa serve A dirmi la bugia Pastor Non mi ingozzavo a venire Non me la sentivo Avevo una Unghite All'alluce Che non manco Tra le immagini Ma a Dio Vogliamo nasconderci ancora Ma vogliamo veramente Allora io Ecco perché Questa è la dimostrazione Che c'è gente Che sta servendo Me E non ha capito niente Che qui si serve Dio Non me Non dovete piacere a me Per forza Ci potrà essere Anche il fatto Che Non c'è feeling Ma se te piace Dio E Dio piace te Va bene Non c'è la promozione Perché tu sei A Tu sei B Tu sei Juventino Adesso c'è Cristiano Ronaldo Sai No Io non vedo questo Io quello che vedo È che Gesù vive in te È che sono ubbidiente Se Dio mi dice Quella è così E quello è così Io devo dire Sì e Amen Indipendentemente Sei Juventino o no Non so se mi sto spiegando Il Signore Non vede tutte queste cose? Certo che le vede Per il resto Non esiste nessun motivo valido Che ci deve impedire Di abbandonare La comune Adunanza Oltre quelli già detti Tutto inizia ad assaltare Un culto Poi due Poi tre Non lo dico io questo Non è un mio pensiero Il non abbandonare La comune adunanza Niente di quanto Ho detto adesso Il mio pensiero Non sto qui a dirvi I miei pensieri Non vi servono I miei pensieri Questi sono pensieri Di Dio Ci piacciono O no Lo stiamo seguendo Con la parola Per questo Ci sono tanti versi Oggi Perché tutto è scritto E vogliamo andare a leggere Cosa dice Paolo In ebrea Capitolo 10 Dice Paolo Manteniamo ferma La confessione Della nostra speranza Senza vacillare Manteniamo ferma No io devo andare in chiesa Ma c'ho la febbre a 38 Ok signore C'ho la febbre a 38 C'è gente Che con la febbre a 38 È venuta È venuta Però se non ti senti Perché c'è gente Che come me Che a 37 e 1 Sono in malato terminale Rimango a casa Non c'è problema Ho la febbre Mi ascolterò il culto Su Facebook Mi farò dare L'audio dal pastore Mi metterò a intercedere Nel letto Tra l'altro Quando state con la febbre Vi invito A pregare di più Perché la malattia Ci rende più sensibili Alla voce di Dio E prendiamoci nota Di quello che Dio ci dice Quando stiamo malati Perché fedele È colui Che ha fatto le promesse E chi è fedele? Gesù Che ti ha fatto la promessa Che le opere Che lui ha già precedentemente Preparata Te le darà La domanda è Tu sei fedele A non abbandonare La sua sposa Perché il fatto Che tu non vieni In chiesa Hai fatto un bidone Gesù Non a me Hai bidonato lui E stai dicendo La scusa La stai dicendo A lui Gesù Ho una unghite All'alluce Ho l'unghia Così lunga Infiammata Che non riesco A venire Invece Paolo Solo perché Paolo era Sciocco No? Diciamo così Non ti sia tanto Nudo Vestito Fame Piero di pancia Povero Ricco Sono sempre qui Né profondità Né altezze Niente Mi potrà separare Dall'amore di Dio Dice Paolo Questo è Essere Discepoli Questa è la fedeltà Che Dio vuole Ma infatti lo dice Vai avanti Dice Facciamo attenzione Gli uni agli altri Per rincitarci All'amore E alle buone opere Ancora Qual è questa buona opera? Non abbandonando La comuna d'Unanza Eccola qua Questa è un'altra opera buona E questa opera buona Tu sai perché la fai? Perché hai fede Se tu abbandoni la chiesa Perché di fatto non hai fede Giacomo La fede è le opere Insensato Vuoi capire Che le opere senza fede Brava Lo sapete no? Non vi sto qui a riprendere Questi versi È sempre quello Tu compi le opere buone Perché hai fede Perché tu vieni qua? Perché a casa tua Non ci sono le finestre? Vieni qua perché non c'hai l'acqua? Vieni qua perché sei sola? A volte sì Tu vieni qua perché hai fede E questo La tua fede ti porta a compiere Opere buone Tu non vieni in chiesa Perché di fatto Tu fede non ne hai Forse poca O forse è rattristato O forse è coperta dai tuoi peccati È coperta dalle immondizie Andiamo avanti La comune adunanza Aspetta Come alcuni sono soliti fare Lo dice Paolo Alcuni Meno male Non tutti Ma esortandoci a vicenda Tanto più che vedete Avvicinarsi il giorno Esortandoci a vicenda A vicenda No a vicenda Vieni in chiesa Che li stai a fare a casa Chissà perché Ogni volta che vieni in chiesa A mezz'ora prima Satana ti mette nella mente Oggi non voglio andare in chiesa Oggi non mi ingozza Fa caldo C'è umidità Ho fatto la piega C'è troppa umidità Non voglio andare Il giovedì mi scoccia E no non c'è il pastore oggi Che vado a fare? Predica il fratello Che mi sta antipatico La sorella che mi sta antipatico È vero? Mezz'ora prima Ma il diavolo ci parla Non andare in chiesa E mo vediamo Per non andare in chiesa Fai questo Così ti giustifichi Per non andare in chiesa Di che hai perso il pullman Di che la scarpa Era bucata Ti mette È vero oppure no? Ti mette nella mente La scusa che devi dire Al pastore Per giustificare Il fatto che non sei venuto In chiesa Avevo i piedi nelle scarpe Non potevo camminare Vai avanti Ok Infatti Se persistiamo Nel peccare Come dice? Vedete che c'è una differenza? Una cosa è il peccato Che noi abbiamo fatto Prima di conoscere la verità E una cosa è il peccato Che noi facciamo Dopo che abbiamo conosciuto la verità Perché lo facciamo Volontariamente Io lo voglio fare Io scelgo di farlo Dopo aver ricevuto La conoscenza della verità Non rimane Più alcun Sacrificio Per i peccati Noi Questo giustifica Che la ipergrazia È satanica Non è Un qualcosa Di vero Non è vera La ipergrazia Esiste La grazia Ma la ipergrazia Almeno in questa chiesa Non esiste Non trascurare mai La comune La comune Adunanza Ho detto mai Dio alla persona accanto a te Mai Mai Tranne se stai lavorando O sei ammalato O se sei invitato A casa del pastore Dio sa E' questo che dobbiamo Comprendere realmente Dio sa Quando tu Non puoi venire E quando tu Realmente Non vuoi venire Dio sa Quando Non puoi venire E Dio sa Quando non vuoi venire A me Non ti devi giustificare Una cortesia O non mi dire niente Perché non sono tenuto A sapere sempre Perché non sei venuto Oppure no O se me lo vuoi proprio dire Dimmi la verità Ti stimo di più Ti amo di più Eviti almeno Un peccato in me Non lo eviti Ricordati che Dio Innalza Gli umili E dà grazia Agli umili Quindi E' buono essere umili Pastore Non mi ingozzava oggi Non so perché C'avevo questa cosa Ho un motivo in più Per pregare per te Resiste ai superbi Abbassa i superbi E resiste ai superbi La comunione fraterna E qua voglio spiegare bene E prendete nota E mi arrivo alla conclusione La comunione fraterna È importante Perché Stando insieme Ci si esorta Ci si edifica Ci si consola Ci si veglia a vicenda Gli uni sugli altri Per questo Dio vuole La comunione adunanza E questo ovviamente Ci rende più forti Nelle nostre battaglie Spirituali E nella fede Oltre che essere qualcosa Che Dio vuole E che Dio gradisce Non si tratta Di stare in comunione Con gli altri Solo per ricevere Ma si tratta Anche di dare Agli altri Noi stiamo qui Anche per dare Un contributo All'altro fratello Una famiglia Perché molte persone Vengono in chiesa Solo per ricevere Ma quando si tratta Di dare Ah guai Sacrilegio Io non posso Non ci credo Che tu non puoi Tu non vuoi Ma la comunione adunanza È un modo Per dare e ricevere Reciprocamente Non è un luogo Dove succhiare Non ci sono Non ne vogliamo parassiti Noi Vogliamo convertiti Che è diverso Bella questa Non vogliamo parassiti Vogliamo convertiti Dove è arrivato? Infatti Tutti i santi Essendo membra Del corpo di Cristo Hanno qualcosa Da dare Agli altri membri Una parola Di edificazione Una testimonianza Una consolazione Una parola Di incoraggiamento Una meditazione Delle scritture Una riprensione No Non lo fare Sorella Non lo fare Fratello Perché io Ci ho messo le penne Insomma C'è tanto da dare Ma Chi vi darà Una parola Di incoraggiamento Fuori L'amico L'amico ti dirà Eeeh Che una volta si vive Fallo Questo ti dirà Il mondo fuori Chi ti verrà A fare compagnia Nei momenti di solitudine Chi ti verrà A soccorrere Quando non stai bene Il mondo Il mondo Viene una volta Eeeh Vittoria Che io C'ho tante cose A casa mia Io una volta Posso venire Due volte Non è che posso stare Sempre con te La chiesa invece ti dice Noi non ti abbandoneremo E non ti lasceremo Mai Mai E anche se può sembrare poco In realtà Non lo è E' perché abbiamo bisogno Gli uni degli altri Così come tutte le membra del corpo Hanno bisogno Gli uni degli altri Noi abbiamo bisogno Di stare Insieme Perché il lavoro satanico È quello di strapparti Dalla chiesa E di isolarti E farti stare Da solo A casa E ti mette nella testa Un Vangelo Diverso Ti crea un Dio Che non è il vero Dio E tu pensi di essere salvo Ma sei già nell'inferno Perché la verità È una Cacciate via Tutti quei vani ragionamenti Che vi impediscono Dalla vera comunione Con la chiesa Perché non vengono Dallo spirito santo Tu hai la necessità Di venire in chiesa E di stare con i tuoi fratelli Perché devi dare qualcosa Ai tuoi fratelli E a volte devi ricevere Vengo in chiesa Perché devo ricevere No pastore Ma io sono stata male Non stavo bene Per questo non sono venuto in chiesa No tu devi venire Proprio perché stai male Mica vai all'ospedale Quando stai bene Buongiorno Pronto soccorso Cosa Cosa ha lì No Sto tutto a posto Sto bene Per questo sono venuto all'ospedale È mai possibile una cosa del genere Uno va in ospedale Perché sta male E quando tu stai male Hai un motivo in più Per venire in chiesa E chiedere guarigione Quando tu sei depresso Hai un motivo in più Per venire in chiesa Quando tu hai problemi economici Familiari Sentimentali Hai un motivo in più Il primo motivo Che ti deve portare qua È inalzare il nome di Gesù Cristo Il secondo motivo È ricevere guarigione Ricevere benedizione Per questo devi venire in chiesa Perché se tu pensi Che la benedizione Deve scendere dal cielo Per forza di gravità Ti stai sbagliando Non so se sono stato chiaro Infatti Dio Non spinge i fratelli A stare separati E lontani Ma li spinge Ad avere una stessa mente E di stare Nel continuo In comunione Vedete cosa La chiesa primitiva Cosa dice Luca Negli atti degli apostoli Sta parlando Della chiesa primitiva E ogni giorno Ripeti con me Chiesa Ogni giorno Andavano assidui E concordi al tempio Ogni giorno Andavano assidui E concordi al tempio Rompevano il pane Nelle case E prendevano Il loro cibo insieme Con gioia E semplicità di cuore Questo è l'insegnamento Di Gesù Cristo È la chiesa apostolica La prima chiesa Che Cristo ha fondato Con Pietro e i suoi Ogni giorno Non erano concordi Andavano insieme Al tempio Questo è quello Che ci insegna Gesù E l'importante Stare in comunione Con i santi Che sono ad esempio Nello zelo Nell'amore Nella condotta Questa è l'importanza Chiudo In prima Tessalonicese Sempre Paolo Dice questo Quanto a noi fratelli Privati Di voi Per breve tempo Di persona Ma non di cuore Abbiamo tanto più cercato Con grande desiderio Di vedere il vostro volto Paolo Nonostante era costretto A stare lontano Dalla chiesa di Tessalonica Scriveva E diceva Non vedo l'ora Di guardarti in faccia È questo sentimento Che abbiamo noi Non vedo l'ora Di vedervi Perché quando iniziamo Il culto Vi faccio abbracciare Che bello vederti Quanto mi dispiace Che l'altra volta Non sei venuto Perché stavi lavorando Anche seppur Sono contento Che hai guadagnato Ok Paolo diceva Anche se sono stato Lontano da voi Per un breve tempo Di persona Ma non con il cuore Non vedo l'ora Di vedervi Qual è la vostra faccia Che bello C'è questo sentimento Tra di noi Non vediamo l'ora Di vederci Di sorriderci Di abbracciarci E poi sempre In salmi È un salmo Che tutti conoscono Ormai È molto conosciuto Cosa dice qui Il salmista Nel salmo 133 Ecco quanto è buono E quanto è piacevole Che i fratelli vivano insieme Fratelli chi? Fratelli in Cristo Che è bello È buono È piacevole Allora Giulia Prima di chiudere Mi alza il dito E dice Pastore Ho capito Chi devono essere i miei amici E i miei fratelli Chi sono? Chi sono davvero I miei fratelli? I miei fratelli Sono quelli Che stanno con me In chiesa? Marco 3,35 Io mi ispiro Sempre a quello Che Gesù ha detto Chiunque Avrà fatto La volontà Di Dio Mie fratello Sorella E madre Non voglio essere Cattivo Non è un mio pensiero Vi amo tutti Vai avanti Matteo 12,50 Poiché Chiunque Avrà fatto La volontà Del padre mio Che è nei cieli Mie fratello Sorella E madre Ancora Luca 8,21 Ma egli Le rispose loro Mia madre E i miei fratelli Sono quelli Che ascoltano La parola di Dio E la mettono in pratica Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano La parola di Dio E la mettono in pratica So che si scatenerà Un putiferio Su Facebook Ma questa è parola di Dio Facciamo delle piccole precisazioni Ancora qualcuno Incomincia a viaggiare Con la propria mente Non sto dicendo Di litigare con nessuno Tanto per cominciare Il litigio non è da Dio Non sto dicendo Di odiare nessuno L'odio non è da Dio Non sto dicendo Di togliere il saluto Da nessuno Di cancellare Da Facebook Nessuno Di bloccare qualcuno Su Whatsapp Non sto dicendo Di girare le spalle Niente di tutto ciò La buona educazione Ed il rispetto Fanno parte del cristiano Quindi Ok? Sto dicendo Che se non ti è possibile Non ti è possibile più Se il fratello Non è mai venuto per Gesù È venuto per altri motivi Che non ci interessano Chiaro? Infatti In prima Corinti 5 Dal 9 al 13 Dice così Paolo Vi ho scritto Vi ho scritto nella mia lettera Di non mischiarvi Sta parlando alla chiesa Di Corinto Qui Paolo Con i fornicatori Non del tutto però Con i fornicatori Di questo mondo O con gli avari E i ladri O con gli idolatri Perché altrimenti Dovresti uscire dal mondo Dice Paolo Io non sto dicendo Dice Paolo Che vi dovete separare Dai peccatori del mondo Altrimenti A chi evangelizziamo? Con chi dice Paolo Che ci dobbiamo separare? Con chi dice Paolo Che non ci dobbiamo mischiare? Ma quel che vi ho scritto Di non mischiarvi con chi Chiamandosi fratello Sia Un fornicatore Un avaro Un idolatra Un oltreggiatore Un ubriacone Un ladro Con quelli Non dovetele pure Mangiare E Paolo Era arrabbiato quel giorno Poiché Devo forse giudicare Quelli di fuori Non giudicate voi Quelli di dentro Quelli di fuori Li giudicherà Dio Ma voi Togliete Il mavaggio Di mezzo a voi stessi Quello spetta A Dio Perché hanno conosciuto La verità È un autotrattamento Non confondiamo Il peccatore del mondo Che ha bisogno di salvezza E ha bisogno di conoscere Gesù Da chi ha conosciuto Gesù E volontariamente Continua a fare La vecchia vita Da quelli Ci dobbiamo separare Perché sono pericolosi E come dobbiamo fare Semplice Pregare Metterli nelle mani di Dio E pregare allo Spirito Santo Quando li lasciamo da soli E ci separiamo Perché il gioco di Satan Qual è? Perché loro sono corrotti già E Si sorvertono un altro Vangelo E ti convincono Ti convincono Perché qual è la posizione? Portarti fuori Una chiesa Che nasce da una divisione È una chiesa Che continuerà a dividersi È scontato Perché è sempre Quel demonio Quello Spirito È sempre lui che lavora Divide per dividere Occhio Fate attenzione Allora Quando noi li lasciamo Soli No? E li lasciamo Perché Hanno lo Spirito Santo Hanno conosciuto la verità Hanno assaporato Dio come si muove Hanno visto Che quando stanno con Dio Funzionano le cose Hanno visto No? Perché molto spesso Cosa facciamo? Andiamo noi a portargli Quella parola di conforto E gli andiamo a servire No Devono imparare Ad amare la chiesa di Cristo Perché Cristo è morto Per la sua chiesa È qui Il luogo di ristoro Non diamole per le porci Quando noi li lasciamo da soli Lo Spirito Santo Cosa farà? Gli parlerà Gli parlerà E le pecore Le vere pecore Dice il Signore Conoscono La voce Del suo pastore Quindi Non potranno dire Che sono stati Abbandonati Ma cosa accadrà lì? Giulia Cosa potrà accadere Quando noi li lasciamo soli? Perché aspettiamo Che sia Dio A parlarli Non più noi Noi non dobbiamo Noi non siamo chiamati A convincere nessuno Noi dobbiamo convincerci Sono noi stessi Che Dio ci ama E che Dio è morto per noi Gli altri E lo Spirito Santo Sia quando dobbiamo Convertire i nuovi E sia quando dobbiamo Parlare Alle persone che stanno fuori Che si sono sviate È sempre lo Spirito Santo Che parla Cosa dirà lo Spirito Santo? Cosa potrà succedere? Quando lo Spirito Santo Parlerà a quelle persone Due cose Una bella E una davvero triste Una cosa bella E una cosa triste Noi profetizziamo Che accade sempre Quella bella Seconda Corinzi 7 Dal 9 al 10 Dice Ora mi rallegro Non perché siete stati rattristati Ma perché questa tristezza Vi ha portati al ravvedimento Vedi visto che c'è una tristezza Che porta al ravvedimento? Se noi portiamo cibo E portiamo consolazione Non ci sarà mai Quella tristezza Che deve far capire Che sono sbagliati Li dobbiamo mettere Nella condizione Di dire Signore L'ho fatta grossa Adesso basta Faccio sul serio Li dobbiamo lasciare soli È necessario Poiché siete stati rattristati Dice Secondo Dio Cioè è Dio Che mi dice di fare questo Per il tuo bene Non ti ho lasciato da solo Perché non ho amore per te Perché sono falso Perché no Ti ho lasciato apposta da solo Perché sapevo Che quando Dio Sarebbe venuto a parlarti Tu avresti avuto questa tristezza E questa tristezza Ti ha portato a un ravvedimento L'ho fatto io apposta Perché me lo dice la scrittura Non perché non ti amo Ma perché ti amo due volte Poi andiamo avanti Dice In modo che non avresti A ricevere alcun danno da noi Perché la tristezza Secondo Dio Produce un Ravvedimento Che porta alla salvezza Del quale non c'è mai Da pentirsi Mai La tristezza che ci dà Dio Non c'è mai da pentirsi Ma la tristezza del mondo Produce Morte Questo è il primo caso Il Signore parla La persona si ravvede Conosce la voce del suo pastore Produce tristezza Si pente Viene qua con la coda abbassata Si avvicina Io lo abbraccio Perché il figlio prodigo Viene abbracciato sempre Siamo pronti ad abbracciare Tutti i figli Prodigi Che tornano Perché quando il figlio prodigo Si è allontanato da casa Il padre non è andato a cercarlo Ma è rimasto Dice la parola Vicino alla finestra Ad aspettarlo E' questo che dice la scrittura Io non faccio Non sovverto il Vangelo Non mi invento le storie del Vangelo Ok? Io aspetto la finestra Come la spara E ti abbraccio E quando mi dici Pastore Il Signore mi ha parlato Stop Hai avuto un incontro con Dio Hai capito l'errore Sì Riprendiamo Questo dice la parola E se non dovesse accadere così? Ebrei Capitolo 6 Infatti Quelli che sono stati una volta illuminati E hanno gustato il dono celeste E sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo E hanno gustato la buona parola di Dio E le potenze del mondo futuro E poi sono caduti E' impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento Perché crocifiggono di nuovo Per conto loro Il figlio di Dio E lo espongono ad infamie Quando una terra imbevuta della pioggia Che vi cade frequentemente Produce erbe utili A quelli che la coltivano Riceve benedizione da Dio Ma se produce spine e rovi E' riprovata E' prossima a essere maledetta E la sua fine sarà di essere bruciata Dio parla Tu sai che la voce è di Dio Tu sai che hai sbagliato Ma dici Non voglio più saverne Stop Fine di un capitolo Non c'è da aggiungere altro Viene bruciato Non c'è da aggiungere altro Per questo Dio vi dice Aprite gli occhi Perché c'è un qualcuno Che vuole rubare La vostra chiamata Vuole rubare il vostro ministerio E lo farà come Facendovi Come dire Mettervi nel cuore Poi peccato L'amore di Dio Ma vado Ma vado No Dio è Ma non vado in chiesa Ma non prego Ora non leggo No Lasciamoci Rubare Il ministerio Vogliamo metterci in piedi Vogliamo creare La nostra atmosfera di preghiera Magari se qualcuno Vuole fare le domande Bene